Controlli anti-covid e movi dall'intervista alla comandante della polizia locale Muzzini. Incendio in un capannuo a Santa Veneranda, distrutti un'automobile e altri mezzi. Corso universitario a Pesaro, al via le iscrizioni per il test d'ingresso. Sport, presentato il nuovo allenatore della Vispesaro, Marco Banchini. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale in questo giovedì 9 luglio. Questa sera partiamo parlando di sicurezza, affrontando questo tema, la sicurezza in città. Ne abbiamo parlato questa mattina proprio con la comandante della polizia locale di Pesaro, la dottoressa Francesca Muzzini. Tanti gli argomenti trattati e che vi proporremo anche nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Questa sera però partiamo con uno dei temi più caldi, ovvero quello dei controlli anti-covid della Movida nella zona del lungomare. Il servizio e chiaramente l'intervista è di Daniele Romagna. Proseguono quotidianamente i controlli sul rispetto delle misure anti-covid-19. Durante la prima metà del 2021 e negli ultimi mesi del 2020, le attività svolte dalla polizia locale pesarese sono state fortemente incentrate sull'osservanza delle restrizioni e di tutte le regole in vigore per limitare i contagi, come affermato dalla comandante Francesca Muzzini. L'attività è stata molto intensa, abbiamo fatto controlli specifici sia sulle persone che sulle attività, sui pubblici esercizi e sui negozi in generale, ma in generale tutti i servizi anche di controllo di polizia stradale erano finalizzati alla verifica del rispetto delle norme anti-covid, questo sempre. Più o meno in questi mesi, diciamo da ottobre fino ad oggi, i controlli sulle persone sono stati di circa 5.000 e così abbiamo controllato pubblici esercizi in un numero di circa 3.000, ovviamente alcuni più volte, quindi arriviamo a questo numero in questa maniera. Abbiamo rilevato diverse violazioni, ma tutto sommato su un numero di controlli così alti, onestamente direi che va bene, abbiamo circa una quarantina di violazioni importanti con una decina di situazioni in cui abbiamo proceduto con la chiusura immediata perché non c'era la possibilità di ripristino della situazione che potesse tornare all'interno delle norme previste. Con l'ingresso in zona bianca e con l'eliminazione del coprifuoco, anche nel Pesarese è tornato in primo piano il tema della movida e dei controlli ad essa collegati. In quest'ottica la polizia locale ha predisposto un rafforzamento delle pattuglie destinato alle zone più calde della città. È molto importante precisare che noi sin da quest'inverno, insomma per tutti questi mesi stiamo proseguendo, rientriamo sempre nel dispositivo di ordine pubblico disposto dalla questura e in coordinamento con tutte le forze dell'ordine. Questo è fondamentale perché l'azione è congiunta e coerente. Per quanto ci riguarda in particolare abbiamo aggiunto una pattuglia il venerdì sera e il sabato sera con un orario che arriva fino alle 3 di notte in modo da sovrapporsi alla pattuglia notturna. Questo significa che nella fascia, che più o meno è quella dell'inizio del deflusso, fra l'1.30 e le 2.30, si sovrappongono due pattuglie e questo ci permette di avere una maggiore presenza nelle zone più calde. In questo momento, come tutti sanno, l'attenzione è maggiore sulla zona via le Trieste e via le Fiume. Però questo non esclude che potrebbe essere spostata in altre zone qualora la situazione cambiasse, insomma. Diversi, soprattutto nelle ultime settimane, sono stati gli incontri a cui anche la polizia locale ha partecipato con le diverse realtà lavorative che operano nell'area del lungomare, come per esempio albergatori, titolari di locali e gestori di stabilimenti balneari. Riunioni per conciliare le diverse richieste espresse dalle categorie anche sul fronte sicurezza. Come polizia locale abbiamo partecipato a questi incontri che si sono svolti perché è giusto e corretto ascoltare tutti, ascoltare esigenze, bisogni, preoccupazioni. Poi bisogna arrivare a un punto di equilibrio e noi è su questo che lavoriamo, cerchiamo di lavorare ogni giorno. L'aumento di personale è quello che ho appena detto, insomma. Abbiamo comunque aggiunto una pattuglia che sia sul territorio e che sia visibile, in modo che anche per gli avventori, insomma, per chi partecipa a questa movida che ha assunto questo carattere negativo, ma in realtà nasce con il significato di movimento, di vivacità, divertimento. Però è giusto che a fianco a queste persone che giustamente si prendono i loro spazi, ci siamo anche noi pronti ad intervenire in caso l'equilibrio si rompa. L'attenzione e l'attività di controllo delle misure anti-Covid rimane quindi ancora alta, in vista anche del mese di agosto e delle ultime settimane estive, in cui si prevede una maggior concentrazione di persone in città. Per il momento noi proseguiremo così in coerenza, adeguandoci, diciamo, di volta in volta alla situazione che ci auguriamo tutti non debba nuovamente peggiorare. Poi, onestamente, quello che ho imparato in questi mesi è che è giusto programmare, noi programmiamo sempre tutto, ma bisogna essere sempre pronti a modificare, ad adeguare alle nuove situazioni. Diciamo che ci vuole anche un po' di creatività, ecco. Il termine della stagione estiva segnerà per la comandante Muzzini anche la fine del primo anno di lavoro con l'incarico direttivo della Polizia Locale. Se penso all'inizio, mi sembra ieri, ma allo stesso tempo mi sembra che sia passato tantissimo tempo. Abbiamo fatto un po' di tutto, abbiamo affrontato tante situazioni, sia esterne che anche interne, perché comunque il Covid ha messo alla prova anche tutto il nostro personale, però sicuramente si è evidenziato un bello spirito di squadra e questo direi che è fondamentale. Il bilancio magari mi riservo di farlo un po' più avanti. Parliamo ora di cronaca e dell'incendio che si è sviluppato questa mattina intorno alle 8.30 nel quartiere di Santa Veneranda e che ha interessato un pergolato adibito a deposito di attrezzi e automezzi. All'interno vi erano due moto, un'autovettura ed un motofurgone. Tutti i mezzi sono andati distrutti. Ancora in fase di accertamento le cause all'origine delle fiamme, che potrebbero essere state generate da un cortocircuito di un'idropulitrice presente all'interno del capanno e che durante la mattinata era stata utilizzata dal proprietario. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con nove agenti e due autobotti che dopo aver spento l'incendio utilizzando acqua e schiuma antincendio hanno messo in sicurezza l'area. Nessuna persona, per fortuna, è rimasta coinvolta nell'incidente. Ed ora il consueto spazio dedicato ai dati da coronavirus nel nostro territorio. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati testati 1.927 tamponi, 812 nel percorso nuove diagnosi e 1.115 nel percorso guariti, con un rapporto positivi testati del 5,3%. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 42, con 8 casi riconducibili alla provincia di Pesaro Urbino. Nelle ultime 24 ore non sono stati notificati i decessi. Secondo anno di vita per il corso universitario triennale con sede a Pesaro della Facoltà di Ingegneria della Politecnica delle Marche in Sistemi Industriali e dell'Informazione. È in programma proprio per la prossima settimana una giornata di Open Day per conoscere tutta l'offerta formativa dell'indirizzo. Mentre da oggi è già possibile prenotare il test d'ammissione per accedere ai 50 posti previsti. Diverse le novità rispetto al primo anno di attività del corso, così come sono diverse le aziende del territorio che hanno deciso di sposare questo progetto tramite le attività di tirocinio. La settimana prossima il 13 luglio alle 10 appresso Palazzo Gradari la Politecnica delle Marche presenterà la propria offerta formativa con particolare attenzione a quello che è il corso di Sistemi Industriali e dell'Informazione che apriremo qui a Pesaro. Un corso di laurea professionalizzante e abilitante. Quindi vi do appuntamento martedì 13 alle 10 qui a Palazzo Gradari e poi vi rimando a tutto l'orientamento sul sito dell'Università Politecnica delle Marche. Una cosa importante è che da oggi fino al 24 agosto alle ore 13 sono aperte le iscrizioni al test d'ammissione perché vi ricordo che abbiamo soltanto 50 posti. Dico soltanto perché la richiesta che ci arriva dal mondo del lavoro è veramente elevata e quindi sia da parte di aziende che è di studi professionali per figure professionali del genere. Quindi ecco, l'appuntamento è innanzitutto per martedì 13 presso Palazzo Gradari e poi per l'iscrizione fino al 24 agosto. L'unica cosa che ricordo è che bisogna iscriversi quindi non sarà una giornata aperta ma bisogna iscriversi entro domenica inviando una mail a orientamento-univpm.it Le novità principali sono queste innanzitutto andiamo ad aprire un nuovo curriculum sempre di impianti energetici ed elettrici ma con un curriculum navale perché abbiamo avuto una forte richiesta anche di tutto il distretto medio-aderiatico abbiamo moltissimi cantieri e quindi apriamo questo nuovo curriculum. Le altre novità molto importanti è che come poi stabilito dal PNRR questo corso di studi sarà abilitante questo significa che dà accesso diretto a due sezioni dell'albo dei periti industriali laureati quindi è possibile andare a svolgere la libera professione senza dover sostenere l'esame di Stato e l'altra novità importante è che per gli studenti che vengono dagli istituti professionali e tecnici è possibile riconoscere come esami le attività di laboratorio già svolte durante il triennio delle superiori. Siccome l'ultimo anno è tutto svolto come tirocinio presso aziende o studi professionali chi ha già svolto attività per esempio di alternanza scuola-lavoro chi già lavora può certificare come tirocinio questa attività che ha già svolto quindi vale anche l'attività lavorativa pregressa e questo è un aspetto molto importante perché comunque riduce di molto l'ingresso nel mondo del lavoro. In tutto il lavoro fatto devo ringraziare anche le aziende che hanno dimostrato grande interesse e proprio martedì ho portato la proposta in giunta anche con un nuovo protocollo come abbiamo fatto con il cantiere Rossini adesso lo faremo anche con BS e anche un ringraziamento alla provincia che si è resa disponibile perché appunto questo corso sta portando i suoi frutti e vediamo che le richieste stanno arrivando anche da fuori regione la cosa importante e innovativa che abbiamo portato come corso universitario è stato l'ascolto delle aziende quindi la richiesta di persone formate che possano entrare direttamente nel mondo del lavoro per l'esigenza e la richiesta che viene data dalle aziende stesse. Con la partecipazione della moglie Nadia Giommi e della figlia Rita Rosa Spina e con le diverse rappresentanze delle autorità civili locali si è svolta questa mattina la cerimonia di intitolazione del piazzale interno della provincia di Pesaro Urbino a Vito Rosa Spina sindaco di Pian di Meleto e presidente della provincia di Pesaro Urbino dal 1980 al 1993 scomparso nel 2018 un piano straordinario di abbattimenti per riportare l'equilibrio in natura è ciò che è stato chiesto questa mattina dagli agricoltori che davanti alla sede della regione Marche hanno partecipato al flash mob per dire hashtag stop cinghiali a livello nazionale Coldiretti ha calcolato un aumento di questi animali del 15% una vera e propria invasione incontrollata con i branchi che si spingono sempre più vicini ai centri abitati mettendo a rischio non solo la tenuta economica dei territori ma anche la stessa incolumità delle persone domani venerdì 9 luglio alle ore 21 prosegue il cartellone di interludio al parco Miralfiore di Pesaro con uno degli eventi di punta dell'estate 2021 in programma l'atesissimo spettacolo di Tiziana Donati in arte tosca i biglietti sono acquistabili sul circuito vivaticket.com o presso la biglietteria del parco il giorno dello spettacolo musica mia Chiara Civello omaggia Mia Martini e la canzone italiana è il progetto che l'orchestra sinfonica Rossini porta sul palco del parco Miralfiore di Pesaro in occasione dei concerti Xan Italia lunedì 12 luglio alle ore 21.30 al Sinfoni Pop Festival alla Rocca Malatestiana di Fano invece si terrà mercoledì 14 luglio alle ore 21.30 dopo il successo dei due eventi organizzati a giugno in piazza Agnassi entra nel vivo l'estate degli eventi di Tavuglia grazie alla 29esima edizione della festa dell'estate a Belvedere Fogliense l'iniziativa organizzata dalla Proloco Fogliense si terrà il 9, 10 e 11 luglio nel suggestivo borgo di Belvedere Fogliense in programma cene a tema con spettacoli musicali dal vivo e domenica la finale degli europei di calcio a cui sarà possibile partecipare prenotando al numero 377-34-03-204 per rispettare le normative anti-covid si intitola La vita come grande impresa il libro che ripercorre la vita e i successi di Walter Scavolini nei suoi 60 anni di storia e attività della grande azienda pesarese conosciuta in tutto il mondo si intitola La vita come grande impresa il nuovo libro del noto imprenditore pesarese Walter Scavolini realizzato in occasione dei 60 anni di attività del marchio conosciuto a livello internazionale proprio sulla vita del presidente e fondatore dell'azienda che opera nel mercato dei mobili da cucina si incentrano pagine e capitoli del volume edito da Mondadori curato da Luca Masia e con la prefazione di Giorgetto Giugiaro il racconto parte dagli esordi in giovanissima età di Walter nato a Pesaro durante la seconda guerra mondiale e cresciuto in una famiglia contadina la decisione di mettersi in proprio arriva nel 1961 fabbricando in casa mobili laccati per cucina all'epoca Walter non è ancora maggiorenne e al suo fianco c'è il fratello maggiore il vino passo dopo passo si arriva agli anni 80 e al grande boom dell'azienda che porterà Scavolini a ricevere la nomina di Cavaliere del Lavoro nel 1993 risale agli stessi anni anche la nascita della fondazione Scavolini attraverso la quale la famiglia Scavolini getta radici importanti per la comunità, il territorio e la salvaguardia dei suoi beni culturali tanti gli aneddoti presenti all'interno del racconto che ripercorre i 60 anni di storia dell'impresa di famiglia dalla scelta dei testimonial per gli spot pubblicitari che hanno contribuito all'ascesa del marchio celebre quello con la compianta artista da poco scomparsa Raffaella Carrà fino alla grande avventura e al legame che ha unito il brand al mondo del basket il gruppo ha raggiunto nel 2020 con i marchi Scavolini ed Ernesto Meda il fatturato di 217 milioni di euro con 700 dipendenti e 1200 punti vendita in tutto il mondo oggi l'azienda è guidata dalla seconda generazione familiare mentre la terza sta entrando ma Walter Scavolini rimane il presidente e il punto di riferimento per tutti torniamo a parlare di eventi perché si inaugureranno domani venerdì 9 luglio le due nuove mostre in apertura ai musei civici di Pesaro la prima dal titolo Jean Miro opere grafiche 1948-1971 è dedicata chiaramente al grande artista del XX secolo la seconda esposizione inserita nell'ambito delle celebrazioni dantesche è intitolata In viaggio con Enrica ed è a cura del giovane pesarese Michael Bardeggia tra le informazioni presentate nel corso della conferenza stampa di questa mattina anche la riapertura della sonosfera che potrete già vivere a partire da sabato abbiamo deciso di concentrare gli sforzi nella doppia inaugurazione due progetti di mostra a cui tenevamo particolarmente che devo dire la verità si sposano alla perfezione al piano ammezzato di musei civici dove siamo ora questa straordinaria collezione di opere grafiche di Miro un artista insomma che non ha bisogno di presentazioni un grandissimo del novecento uno studio sul colore sulla forma sull'astratismo incredibile che gioca con questo allestimento ricreato nei musei dove ogni sala è diversa ogni sala è stata ridipinta per giocare diciamo con il colore dominante delle opere delle varie stagioni della vita e della produzione veramente un viaggio che merita fare non solo la scoperta dell'artista ma in un'esperienza vera e propria immersiva così come al Piero Terra ospitiamo Michael Bardeggia che è un giovane, giovanissimo anzi illustratore pesarese che però ha ormai una visibilità nazionale e internazionale e ha fatto un lavoro incredibile di incisioni e di sue opere illustrative e anche diciamo particolarmente evocative e oniriche legate a Dante ma non solo, su gestioni, su temi antropomorfi, zoomorfi insomma un bellissimo viaggio per immagini e crediamo che entrambe le mostre, entrambe le proposte che sono distanziate di pochi metri l'uno dall'altro oltre alla possibilità di visitare la collezione permanente dei musei civici possano essere una bellissima attrazione sia per i turisti ma anche per i pesaresi che ritornano alle mostre lo ritornano con una botta di colore di cui forse avevamo bisogno e anche per questo crediamo che possa essere molto interessante e molto appropriato anche per la didattica che sta tornando quindi la possibilità di coinvolgere i bambini nei corsi, nelle attività collegate per entrare dentro lo spirito delle mostre degli artisti e far diventare si stessi protagonisti del processo creativo La mostra In Viaggio con Enrica ha 30 illustrazioni originali tratte dal libro Dante e il Mi Babbo pubblicato con Arche Edizioni di Milano scritto da Chiara Lossani con cui ha un bellissimo rapporto di amicizia e all'interno delle illustrazioni si racconta le vicende di una bambina che si chiama Enrica che si muove attraverso il racconto della figlia di Dante la vera figlia di Dante che è suor Beatrice e quindi nasce questo rapporto di amore quasi di amicizia tra la bambina e la suor Beatrice che si muoveranno attraverso le vicende e la narrazione della Divina Commedia e le 30 illustrazioni sono tutte realizzate a mano e con l'utilizzo del segno della penna dell'acrilico e dei pantoni e all'interno delle illustrazioni sono presenti animali che sta a significare appunto questo rapporto che è presente in tutte le illustrazioni tra uomo e natura questo rapporto non conflittuale ma quasi anche lì di amicizia comunque di unione molto importante che quindi sarà presente in ogni tavola in ogni illustrazione e ogni animale come ho detto precedentemente ha in sé delle emozioni e quindi ogni animale ha una sua simbologia entra a far parte di una metafora all'interno del libro dell'albo illustrato all'interno della mostra sono presenti anche dei forex e degli adesivi che permetteranno a chi verrà a visitarla di entrare, di interagire all'interno della mostra come se fosse all'interno del libro stesso e quindi ecco all'interno dei forex si potranno fare anche delle foto interagire anche con gli animali stessi i leoni, i leopardi, i lupe e quindi ecco si muoverà all'interno della mostra delle illustrazioni con lo spirito un po' da bambino che non dobbiamo mai perdere e chiudiamo questa sera il nostro telegiornale parlando di Vispesaro quindi lo sport locale questa mattina infatti si è tenuta una conferenza stampa nella Sala Rossa del Comune di Pesaro di presentazione proprio del nuovo allenatore bianco-rosso lui è Marco Banchini l'ha seguita per noi questa conferenza Daniele Sacchi Sala Rossa delle Comune di Pesaro giovedì 8 luglio luogo e data della prima apparizione pubblica della Vispesaro 2020-2021 una stagione che comincia con la presentazione del nuovo allenatore Marco Banchini classe 1980 Lombardo di Vigevano che il 18 luglio comincerà dal ritiro di Chianciano Terme la sua avventura con la Vispesaro un'avventura alla Vis che arriva dopo due stagioni e mezzo al Como la prima culminata con la vittoria del campionato di Serie D la seconda con una bella salvezza la terza interrotta anzitempo con un esonero ma questo è il passato il presente si chiama Vispesaro e ascoltiamo appunto le prime parole di Marco Banchini da nuovo allenatore della Vis Oggi è il suo primo giorno chiamiamolo così pubblico a Pesaro ma di fatto il suo accostamento alla Vis è noto da maggio un periodo in cui ha avuto tempo di studiare l'ha detto già in conferma stampa l'ambiente quali sono le sensazioni che ha potuto carpire di quella che sarà questa stagione a Pesaro e seconda cosa mancano dieci giorni al ritiro a che punto siamo? Allora hai detto bene io a... ma è giusto no all'inizio di giugno abbiamo trovato le condizioni per poi affrontare il nuovo percorso insieme al presidente quindi all'inizio di giugno fine maggio eravamo già comunque più o meno d'accordo dopodiché penso manca un giocatore solo però non vi voglio dire niente perché ripeto è la società della dirigenza a tirar fuori i nomi abbiamo fatto diverse trattative e questo ripeto di programmare è stato sicuramente un aspetto positivo perché è tutto il mese che lavoriamo io credo che a volte dei giocatori li devi prendere all'inizio del mercato per fargli capire quanto sono importanti per te e invece quelli che ti dicono che però dobbiamo aspettare per vedere magari non hanno tutta quella voglia di venire ecco per quelli che saranno i primi giorni di allenamento quali sono i primi pensieri quelli in cima alla piramide del banchini allenatore che andranno trasferiti nelle teste dei giocatori? io penso che nel calcio oramai e nel metodo di lavoro bisogna lavorare su dei principi ecco perché non sono legato a un sistema i principi sicuramente vanno scelti per le varie fasi di gioco quindi abbiamo una fase di possesso che a me piace definire verticale penso che qualcuno che mi conosce lo abbia già fatto perché l'obiettivo delle partite è fare gol quindi bisogna andare in avanti bisogna andare in avanti con la palla bisogna andare in avanti senza però bisogna saper riconoscere i momenti di difficoltà delle partite perché dentro una partita ce ne sono infinite e a me piace parlare di organizzare l'imprevisto quindi l'obiettivo delle prime settimane è organizzare l'imprevisto che la partita e il momento della stagione ti può creare dopodiché fare un ritiro due settimane comunque in una struttura adeguata dove puoi lavorare consentirà di fare anche quella unità di intenti e senso di gruppo che c'è nel momento in cui esci dal campo perché questo è fondamentale e allora in bocca al lupo alla Vispesaro adesso invece andiamo con la programmazione di questa sera su Rossini TV questa sera infatti vi faremo rivedere questo bellissimo documentario che vi è piaciuto moltissimo le stelle continueranno a brillare curato da Gastone Mazzanti è un documentario che racconta la Pesaro negli anni dal 1935 al 1945 se volete così come in tanti di voi l'hanno già fatto potete anche acquistare il DVD con le sei puntate del documentario chiamando chiaramente il numero della nostra redazione mentre domani vi vogliamo segnalare come sempre la consueta lettura e commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Marco di Giorgio domani alle ore 17.30 sabato alle 10.30 e alle 16 domenica alle 8 e alle 11 mentre domani in prima serata Pesaro Balla presenta le attività del 2021-2022 questa nuova stagione per ballare insomma insieme a questa società ormai storica della città di Vallefoglia e non solo e poi vogliamo anche dirvi insomma che qua la zampa come sapete il nostro programma dedicato agli animali è terminato e è terminato anche il contesto relativo avete votato la foto più bella che abbiamo pubblicato su Facebook tra le foto tantissime che ci avete mandato voi e il vincitore di questo premio di questo contest è il gatto Doris della famiglia Baciglieri prossima settimana faremo un'intervista alla famiglia Baciglieri vi faremo vedere personalmente il gatto Loris che ha vinto una fornitura di cibo appunto per animali e ci saremo insomma tutti noi della TV e anche il titolare dell'azienda Comis che ha supportato questo programma ho detto davvero tutto grazie per averci seguito anche questa sera l'appuntamento è a domani con Daniele Romagna per la rassegna stampa alle 7.20